... Così l'estate si trasforma in un mare di plastica e rifiuti, catastrofi naturali e di inquinamento, condizioni ambientali create dalla mano degli uomini. Nella sala della regina a Montecitorio, le quattro stagioni di Vivaldi con i solisti aquilani. Sentiamone un brano. Il loro obiettivo è risvegliare le coscienze su quanto sia necessario provare a fermare il deturpamento continuo dell'ambiente in cui viviamo. E la musica che torna va nelle fabbriche per difendere l'ambiente, come ci racconta Leonardo Rossi. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.